E ora, con tutti i credenti delle nostre terre, il grazie a Maria, l'affidamento, la gioia della fede, l'intercessione delle vere e le speranze che viene per il cuore di tante famiglie e di tante persone. Non abbiamo ancora potuto fare la bella processione, ma non siamo nemmeno con la Chiesa ruota come l'anno scorso quindi vuol dire che i massi si stanno tornando a compiere, magari ad un ritmo più lento, prudente, ma con fiducia perché il Signore ci guida e la Madonna ci accompagna. Ci accompagni ora a guardarci dentro, a riconoscere onestamente il buio, le terre e il peccato che ci insidia e confessarlo con umiltà per essere salvati e rinnovati nel profondo dal Signore.